Il secondo caso di suicidio assistito in Italia sta per materializzarsi nello stesso territorio in cui è arrivato il primo, ovvero ancora nelle Marche. Dopo il caso apripista del senigallese Federico Carboni, morto lo scorso 16 giugno dopo aver avuto accesso al farmaco fine vita, l'Asur delle Marche ha dato oggi il via libera al farmaco per l'aiuto al suicidio anche al 44enne marchigiano Antonio, nome di fantasia di un individuo tetraplegico dal 2014 e che da due anni ha avviato le pratiche per l'eutanasia. Pratiche acceleratesi dopo che gli sono stati riconosciuti i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito previsti dalla sentenza costituzionale Cappato Antoniani di Geifabo. Al riconoscimento dei requisiti si è aggiunto il tassello che mancava, quello dell'accesso al farmaco fine vita. Antonio, seguito nel percorso legale dell'associazione Luca Coscioni, aveva ripreso contatti con una clinica svizzera per concretizzare il suo fine vita, ma il via libera dell'Asur gli consentirà di porre fine alle sue sofferenze in casa attorniato da suoi cari fino all'ultimo istante. Quello di Antonio sarà il secondo caso in Italia in un percorso aperto dal ferminianese Fabio Ridolfi che morì però scegliendo la sedazione profonda non vedendo sbloccare l'accesso al farmaco.